ciao castorini non mi conoscete io mi chiamo click e sono un ornitologo uno che studia gli uccellini so che avete realizzato la casetta per gli uccellini a casa vostra non tutti vero però avete ancora tempo per realizzarla però come fanno gli uccellini a sapere che quella una casetta proprio per loro oggi insieme ai vostri compagni ci siamo ingegnati vero sì e che cosa abbiamo procurato per i nostri amici uccellini per la coperta dei materiali tanto materiale utile per realizzare un bel mido vero quindi abbiamo trovato tantissimo tantissimo mucchio tantissime e morbidissime foglie e tanti bastoncini tanti bastoncini e tanti filetti con cui i nostri amici uccellini che fanno costruiscono il nido dentro la casetta va bene quindi per sabato prossimo che facciamo faremo faremo che ognuno porta la sua casetta e dentro ci metteremo un po di materiale così gli uccellini dentro ci costruiranno il nido ok d'accordo allora salutiamo tutti sulle mani ciao ciao ciao